Una delle grandi preoccupazioni dei genitori è che per i figli ci siano delle difficoltà e non è detto che ci siano delle difficoltà così grandi da poter essere rilevate a un occhio anche inesperto. A volte la soglia è molto sottile e allora può essere utile qualche esercizio, qualche gioco, qualche attività che ci permetta di capire se veramente c'è qualche difficoltà da andare a approfondire oppure se è semplicemente una fase e un momento. Io oggi vi propongo una piccolissima attività che può avere una grandissima utilità. Con due fogli di carta oppure un foglio di carta e un rotolo che può essere anche quello di carta da casa recuperato. Se c'è questo si può usare questo, altrimenti basta utilizzare anche un foglio di carta, quindi con due fogli di carta. Allora, uno lo appoggiamo un attimo e l'altro invece lo utilizziamo facendo noi oppure chiedendo al nostro bambino di arrotorarlo, molto semplicemente, e di guardare attraverso come farebbe un pirata, come farebbe qualcuno per osservare qualcosa da lontano. Ok? Molto semplice, assolutamente semplice. Un'altra cosa che possiamo chiedere di fare è di attartocciare con una mano il foglio di carta, fare una pallina, in questo modo, poi di prendere il foglio di carta di prima e metterlo da qualunque parte, per esempio anche soltanto a terra, fare qualche passo per allontanarsi dal foglio di carta e chiedere di colpirlo più vicino che può. Ok, queste sono prove estremamente semplici che però possono dare tantissime indicazioni. Innanzitutto torniamo un attimino indietro. La prima cosa che abbiamo chiesto di fare al bambino è stata di prendere il foglio di carta e di guardarci attraverso, quindi di creare un rotolo con le mani, quindi una prova manuale di una certa importanza, e di guardare attraverso, quindi noi possiamo vedere la mano che ha usato soprattutto per fare questa prova e l'occhio che ha usato per guardare attraverso il foglio. La seconda cosa che abbiamo chiesto è stata di appallottolare il foglio di carta, quindi fare un lavoro di manualità fine con una mano singola, che probabilmente è la mano dominante, quindi qua si capisce se è la mano destra o la mano sinistra, e poi abbiamo chiesto di portare un foglio a una certa distanza, di mirarlo e di colpirlo. Quindi abbiamo qua altre competenze che vengono messe in gioco. Un bambino normalmente, intorno ai 5, 6, 7 anni sicuramente, riesce innanzitutto a comprendere queste consegne, a svolgerle e eseguire i compiti senza nessuna fatica. Poi magari certo la mira può non essere esattamente quella precisa, ci possono essere delle difficoltà, degli aggiustamenti, però dopo un po' di allenamento si riesce tranquillamente a svolgere il compito. Quando ci sono delle difficoltà invece questo problema si manifesta, quindi qua possiamo vedere qualche indizio nel non riuscire a completare la consegna, a comprenderla, a manualizzarla oppure ad eseguirla. Questo posso consigliare allora a un genitore che si trovi nella situazione di vedere che il proprio figlio è in difficoltà in una o in tutte queste attività. Innanzitutto trovare giochi, attività, cose divertenti da fare insieme magari, che possano allenare queste abilità. Non devono essere situazioni difficili, abbiamo visto che lavorare con dei materiali di recupero, oggetti molto semplici, può essere assolutamente utile. Oppure se la difficoltà persiste, se vediamo che ci sono altre difficoltà magari nell'elaborare dei movimenti, piuttosto che delle istruzioni fornite in modo diverso, allora forse è meglio indagare con uno specialista la situazione. Per quanto riguarda me, io consiglio la pedagogia clinica perché è una possibilità che copre tutte le necessità dalle persone. Oppure la psicomotricità funzionale, che attraverso il corpo, la fisicità e il movimento vanno a lavorare proprio su queste abilità di base che possono risolvere sul nascere delle situazioni senza fare in modo che si consolidino poi nel tempo.